Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia di Angelica Artemisia Pedatella che conoscete già per la presentazione del libro che è avvenuto qui a Cleto qualche tempo fa Un germoglio fra le sbarre. Lei si occupa di tantissime cose, anche di teatro e in questo caso è organizzatrice di uno spettacolo, anzi di un concerto, scusate se mi sono sbagliato, di Oscar Bonelli che si terrà alla mese a terme il 20 aprile, quindi fra qualche giorno e sempre ha a che fare con Cletarte, giusto Angelica? Sì, perché Cletarte è l'ente che organizza tutto questo, diciamo me ne sono incaricata io insieme a qualcun altro, non sono sola ovviamente, Cletarte è impegnata a fare cose belle A questo punto ti voglio chiedere quello che sarà questo concerto, perché è un concerto speciale, particolare, non è il solito, diciamo, teatrino convenzionale dove si dederanno strumenti musicali o una persona che si esibisce, ma è qualcosa che ha a che fare con la natura, con gli alberi e qui ci devi raccontare tu Allora, Oscar Bonelli è un polistrumentista, suona strumenti antichissimi, ma anche strumenti autocostruiti con corna di animali, con cortecce, con qualunque cosa, però solo materiali naturali perché lui fa suonare la natura, ci fa ascoltare qual è il suono che produce la natura in tutte le sue forme e questa è già di per sé una cosa interessante, ma la cosa più interessante di questo concerto è che ad un certo punto, grazie ad una particolare tecnologia che è in grado di amplificarne il suono, ci farà ascoltare che tipo di musica producono le piante, gli alberi, perché la difesa del pianeta, in particolar modo la protezione della natura vegetale degli alberi è qualcosa che non solo secondo me deve essere patrimonio di ogni persona che non solo fa arte, ma che vuole vivere su questa terra, ma è anche una condizione fondamentale per la nostra sopravvivenza, perché gli alberi alimentano la terra, la terra senza gli alberi è morta e quindi fare un evento artistico che sia centrato su questo per la prima volta, e questo lo sottolineo, perché non ho sentito precedentemente, soprattutto sul nostro territorio, di eventi che siano stati orientati in questo modo, per me è l'inizio di qualcosa che deve continuare. Ti volevo fare un'altra domanda, qui purtroppo a Cleto, ma come in realtà in tutta l'Italia, in tutta la Calabria, si è svolto proprio l'anno scorso, in periodo estivo, un grosso incendio, quindi oltre a tutelare il patrimonio boschivo locale, si parlerà anche di questo, io so che c'è anche la protezione civile che ha patrocinato l'evento, il concerto. Sì, perché ha ritenuto questa campagna di sensibilizzazione e prevenzione degli incendi un'iniziativa molto importante, di cui il concerto è solo il là, il là di inizio. La presenza della protezione civile significa tantissimo per noi, significa intanto essere riconosciuti e sapere che le istituzioni sanno che c'è qualcuno, ci siamo noi, che ci stiamo impegnando sul campo per unire qualcosa di bello, l'arte, a qualcosa di utile. E poi significa anche poter comunicare meglio quello che noi stiamo facendo, significa anche aver aperto uno spazio, uno spiraglio che può creare rete anche per altri, per chi poi condivide la stessa sensibilità e può interagire con noi, con loro, insomma, è un incontro felice che ci onora. Angelica, ovviamente, dicevamo prima proprio all'inizio dell'intervista, tu ti occupi da anni di arte, spettacolo, musica e in questo caso di cultura. La mattina, alle ore 11.30, ci sarà la scuola in Audi di La Maizia Terme, quindi gli studenti, partiamo dalla cultura, partiamo dai bambini, per insegnare loro il rispetto per la natura e l'emozione che dà, magari, non lo so, addirittura abbracciare un albero. Allora, non ci saranno solo gli studenti dell'Einaudi, ma ce ne sarà anche qualcun altro. Abbiamo voluto fare una replica dello spettacolo, che è uno spettacolo serale. Lo spettacolo, tra l'altro, è alle 19.30 ed è volutamente alle 19.30 perché noi desideriamo che la gente venga rilassata a sentire il concerto e se ne vada via per l'ora di cena e abbia tutta la serata libera per riflettere, cenare. Ci piace il relax ed è quello che ci insegnano gli alberi. Così abbiamo pensato che era giusto dare l'opportunità di vedere una cosa così particolare dove alla fine c'è anche una piccola sorpresa che però non svelerò assolutamente qua. Era giusto dare l'opportunità anche agli studenti di soffrire di uno spettacolo del genere. Ovviamente per gli studenti abbiamo fatto un'edizione per la mattina. Durera di meno? No, essendo un evento dedicato alle scuole abbiamo fatto in modo di organizzarlo in maniera diversa con dei piccoli accorgimenti proprio dedicati agli studenti perché comunque l'educazione ambientale è un'esigenza adesso, tant'è che è stato realizzato un protocollo di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e che è stato realizzato in maniera artistica. Io che ho studiato veramente tanto e tanto tempo arte e cultura, per me dire che utilizzare l'arte per trattare temi sociali, temi ambientali è fondamentale, è quasi superfluo, no? Perché l'arte non è solo esibirsi o dare soddisfazione al proprio ego o fare qualche cosa che magari, recitare Goldoni che è un grande privilegio poter recitare Goldoni, però accanto alla capacità di recitare Goldoni ci deve essere anche la capacità di essere contemporanei perché questa è una cosa che voglio sottolineare. Tutti i grandi del passato sono stati contemporanei del loro tempo. Suonavano, conoscevano, interpretavano anche i loro maestri dell'antichità ma si sono preoccupati di essere contemporanei e noi dobbiamo fare la stessa cosa preoccuparci, curare l'antichità, quello da cui proveniamo, studiarlo, rispettarlo ma cercare di essere contemporanei perché se no l'arte muore. Io volevo dire un'altra cosa perché si è detta prima dell'intervista ed è una chicca diciamo che siamo anche fortunati a vedere questo spettacolo qui in Calabria perché potrebbe essere, anzi già hai preso contatti lo so, con addirittura la Spagna e la Svezia per esportare questo progetto, questo bellissimo evento che sarà il 20 aprile diciamo nell'Oasi San Francesco alla Mezzia come punta di diamante probabilmente di quello che è la tua voglia di comunicare e di dare, di seminare, sarebbe la parola giusta quello che è, non so, l'amore per la natura, la cultura, lo dicevi poco fa. Quindi quanto conta per un calabrese che tu da calabrese, da cletese lo puoi dire quanto conta essere portavoci nel mondo e quindi anche all'estero di notizie positive? Si parla sempre di notizie negative e parliamo di notizie positive. Allora io da tanto tempo vivo a Roma dove fondamentalmente ho svolto la mia attività però anche questo ce lo insegnano gli alberi, noi siamo quello in cui sono affondate le nostre radici e la terra in cui affondiamo le nostre radici resta la nostra terra e così la calabria è sempre la mia calabria per cui tante volte ho pensato di spostarmi all'estero ma dentro di me c'era comunque la volontà di esserci per la mia regione e quindi così ho pensato che questo era il momento buono per cominciare ad operare in maniera più consistente qui in Calabria e cercare di esportare dei buoni prodotti creati in Calabria fuori fuori semplicemente perché abbiamo delle cose meravigliose, delle persone meravigliose, tanti talenti, una terra meravigliosa e possiamo creare cose bellissime. Abbiamo tante difficoltà e quindi tante situazioni che ci impediscono poi di portare avanti certi prodotti, certe idee però al contempo ci sono anche tante possibilità qui e fare questo, cercare di creare un buon prodotto che possa essere esportato è un messaggio per tutti quanti ed è vero che è un prodotto del genere, il concerto diciamo che è la fase iniziale di un progetto più grosso che sarà sviluppato e per cui sì è vero ci sono anche delle opportunità di portarlo in Spagna e in Finlandia perché sono paesi molto sensibili che sanno apprezzare un certo tipo di cultura e soprattutto certe tematiche che noi spesso sottovalutiamo Angelica a questo punto io concluderei l'intervista dando un piccolo input per invitare gli amici web ascoltatori a questo viaggio sensoriale tu sempre nella nostra pre-intervista dicevi qualcosa che ti avvolge e ti farà andare in estasi sì assolutamente allora noi stiamo studiando questo concerto perché la cosa essenziale è quello che ci insegna l'arte che ci insegna la natura è emozionare perché noi siamo dotati di intelligenza emotiva prima di tutto ci hanno insegnato per un sacco di tempo ad essere razionali alla logica è tutto vero però prima di qualunque altra cosa c'è l'intelligenza emotiva quindi noi abbiamo studiato questo spettacolo in modo che le luci curate da una persona molto in gamba appunto dalle luci alla musica tutto quello che farà parte di questo concerto dia una profonda emozione dia divertimento e soddisfazione a chi verrà a vedere il concerto perché non vogliamo degli intellettuali vogliamo della gente che apre il cuore con la parola cuore che è importantissima davvero perché bisogna aprirlo Oscar Bonelli 20 aprile 2018 Oasi San Francesco alla Messia Terme ore 19.30 la sera quindi e la mattina 11.30 ci saranno le scuole però magari qualche giornalista vuol farsi una capatina e andare a vedere contattate Angelica Artemisia Pedatella i riferimenti andranno in sovraimpressione sul video e comunque ci vediamo il 20 aprile grazie Angelica grazie mille a liberi TV e a te grazie mille a liberi TV e a te